Sofì è bellissima sia prima il parto che dopo. Ringrazio a tutti per i regali per Selina e anche per tutti i messaggi. Comunque vi devo raccontare 2500 cose poi in questi giorni che sicuramente sarò un filino più tranquilla ci facciamo proprio una bella chiacchierata però ho completamente abbandonato il telefono in questi giorni mi sto proprio godendo questo momento. Sono arrivati i miei parenti parenti di Ale siamo tornati dall'ospedale abbiamo fatto incontrare Bibi e Selina che fortunatamente io avevo una paura perché molti mi hanno detto guarda magari Bibi sarà gelosa non la prende bene invece è innamorata pazza di Selina e poi vabbè vi racconterò tutto bene però tra le 2500 innanzitutto ci tenevo a ringraziarvi per tutti i messaggi che mi state mandando tutti i pensierini per me Selina veramente grazie. La festa di benvenuto è stata veramente un successo con tutti gli amici e i parenti auguri ancora.